ariete irrefrenabile in ogni esternazione di gioia entusiasmo e voglia di fare sarà una giornata lunghissima eppure il tuo entusiasmo non sarà mai calante toro quello che ti viene richiesto oggi è la disponibilità all'ascolto soprattutto in amore oggi dovrai fare forse un passo indietro ad allentare la corda gemelli mercurio ti invita ad osare forse arriverà oggi quella svolta che tanto hai aspettato e cui ormai non pensavi neanche più cancro tutta l'energia che senti va alimentata altrimenti non durerà oggi dovrai fare qualcosa per prenderti cura del tuo corpo e della tua agilità leone intimo e amorevole l'amore oggi è complicità intesa cercarsi per ritrovare l'altra metà e sentirsi completi plutone porta grande armonia intimità unione vergine sentirà il bisogno di compiere un gesto semplice ma sentito e di sicuro impatto manda dei fiori alla persona amata o corteggiata sorprendila bilancia ogni idea proposta progetto avrai come la sensazione che a priori non venga neanche presa in considerazione ne sarei abbastanza irritato scorpione abituato a capeggiare ad importi con un filo di prepotenza oggi non riuscire a spuntarla ti farà saltare su tutte le furie sagittario sceglierai finalmente di farti un regalo forse già in pausa pranzo un massaggio total body per un total relax che non guasta mai capricorno venere e martedì regalano un giorno di grande intesa sessuale ma appena messo il piede fuori dal letto ogni gesto sarà motivo di discussione acquario oggi venere protegge le scelte coraggiose sentite i progetti un figlio una casa un matrimonio una convivenza the time is now pesci oggi riscoprirei il potere del lavoro in team della squadra dell'unione che fa la forza mercurio ti invita alla collaborazione su qualsiasi fronte